fronte del podcast edizione del giovedì buongiorno buongiorno benvenuti all'ascolto Roberto Forti Simona Tonini allora questa volta edizione del giovedì intanto nuova edizione nel senso che avremo due edizioni durante la settimana di fronte del podcast per riassumere le notizie di fronte del blog e non solo fare un po il punto il giovedì sarà un po la giornata del punto e domenica sera un po il riassunto della settimana esatto oggi volevo esatto partiamo tornando un attimo indietro rispetto a un articolo che avevo pubblicato noi su fronte del blog che parlava di REM perché è giusto puntualizzare innanzitutto REM e non si tratta del movimento che si fanno gli occhi nel sonno rapid ice moving ma si tratta del reddito di emergenza allora cosa hai scoperto per cui hai provato ad accedere io ho ceduto diciamo all'inps e che cosa ho scoperto che rispetto a maggio del 2020 sono aumentate dell'8 per cento per cento le domande 800 per cento quindi veramente sì esatto una richiesta una una situazione diciamo di povertà in cui stiamo andando veramente importante uno poi diciamo si parla molto del fatto che in italia ci siano i furbi che vogliono accedere ai bonus però invece diciamo che c'è da rilevare invece che c'è ma quando ci sono tantissimi accessi vuol dire che ci sarà sicuramente qualche furbetto qualcuno che non merita che magari riuscirà anche ad accedervi ma il problema che invece grosso di cui non si parla che rimangono fuori migliaia di persone che invece ne avrebbero comunque diritto o comunque bisogno che qui non si tratta secondo me bisogna mettere la parola proprio non tanto sul fatto del diritto ma sul fatto del bisogno se ci sono così tante richieste vuol dire che c'è un bisogno da parte della cittadinanza e non bisognerebbe passare per tutta questa burocrazia sottolineo un'altra cosa che il REM è solo uno dei bonus immagino tutti gli altri che capienza diciamo che richieste ci saranno l'altra cosa è che purtroppo se qualcuno ne sa qualcosa l'ISE cioè la valutazione della situazione economica si fa sul 2019 siamo ancora lì cioè non siamo neanche aggiornati su questo uno che nel 2021 questo lockdown ha avuto una difficoltà deve presentare la sua situazione per accedere nel 2019 è veramente drammatico quindi pre pandemia quando magari qualcuno aveva ancora il lavoro non aveva la cassa integrazione aveva degli altri redditi che in questo momento non ci sono più allora ho detto io quando ci sono molte domande andiamo sul concreto vuol dire che c'è effettivamente bisogno ci saranno anche furbetti ma c'è molto bisogno invece noi notiamo a volte i furbetti ma non notiamo il bisogno e per me si aggancia ad un'altra notizia presa sempre da fronte del blog pubblicato anche da cronaca vera del politicamente corretto è bella anche questa foto presa dalla città di Petra perché i talebani qui hanno sfigurato le statue togliendo il volto queste statue antichissime millenarie della città di Petra e si parla dei nuovi talebani non ci accorgiamo ma noi siamo circondati da un politicamente corretto che sta diventando invece un pensiero unico fanno qui l'esempio nell'articolo se una modella che fa della bellezza il proprio lavoro è brutta oggi non si può dire perché non è politicamente corretto e si fa body shaming quindi si rischia poi di andare di incorrere anche in problemi bisogna uniformarsi ok va bene non diciamo che è brutta però vogliono anche obbligarci a dire che è una nuova bellezza oggi è un problema veramente di sentire perché quando qualcuno ha un pensiero diverso viene come cacciato dalla comunità o cacciato o etichettato quindi gli viene data l'impossibilità di esprimersi perché insomma deve rientrare in determinati categori e non può assolutamente parlare di qualcosa che viene cioè che sembra attaccare diciamo anche grandi come Gerry Scotti e Michelle Luzzi che nel senso persone comunque di potere e di peso mediatico c'è questo esempio che riguarda un po' lo sketch con gli occhi a mandorla che una volta sarebbe passato diciamo senza tutti questi sovra con un sorriso come gli italiani sono pizza e mandolino come tante altre cose che hanno una parte di senso di verità ma fanno parte insomma di un discorso anche di comunicazione di comunicazione di leggerezza qui invece è stato un caso minacce di morte e hanno dovuto chiedere in un certo senso scusa ma diventa veramente un pensiero unico perché è difficile di sentire o pensarlo in un modo diverso senza essere attaccati minacciati di morte esatto silenziati insomma diventa veramente difficile esprimersi parliamo di cure con l'articolo di Stefano Mauri del dottor Agostino Dossena molto interessante questo medico e blogger cremasco che torna a parlare nel suo blog dell'utilizzo degli infiammatori io qui lascio proprio il pubblico a cercare all'interno perché ci sono tutte le risposte anche rispetto al nuovo protocollo di cura che è uscito da parte del ministero e il parere di questo medico rispetto poi alla gestione del domiciliare proprio del Covid del domiciliare e del dottor Agostino Dossena rispetto al cura domiciliare del Covid ma soprattutto la puntualizzazione sull'uso dei cortisonici il non uso dei cortisonici soprattutto e l'introduzione di una cosa che dall'inizio diciamo chi non soltanto i medici ufficiali hanno detto importante hanno scoperto il fattore che chi ha nel sangue alte dosi di vitamina D ha dei valori ematici di vitamina D alti non si è ammalato gravemente di Covid anche perché la vitamina D è una di quelle cose che serve ai nostri diciamo alle parti che ci difendono noi abbiamo dentro per dirti una cosa molto terra terra delle cellule che servono per difenderci dagli attacchi mangiano fagocifere che eliminano quelli che sono i virus e altre cose queste sono rinforzate proprio dalla vitamina D quindi chi ha un tasso specifico della vitamina D per il momento sembra ad alcuni studi anche perché questo mi allaccia ad un'altra riflessione sul Covid è tutta una malattia, una situazione da studiare ancora e ancora da studiare è in evoluzione, non è che abbiamo capito, giusto? abbiamo preso delle misure giustamente anche in maniera emergenziale però adesso è il momento di metterci veramente visto che se vogliamo un approccio scientifico prendiamo le rilevanze scientifiche perché sembra che stiamo prendendo e adesso cambiamo argomento delle rilevanze che siano politiche per dare una rilevanza scientifica diciamo che lo usiamo politicamente questo pensiamo esatto al coprifuoco che sta suscitando clamore anche il Parlamento insomma a cosa serve? è reale la necessità di questo coprifuoco rispetto al virus? vediamo che ritorna al fattore del pensiero unico c'è un filo rosso che unisce un po' tutti questi pensieri e a proposito di pensieri parliamo adesso di scrittori allora andiamo sulla scrittura e Sherlock Holmes io mi occupo di Sherlock Holmes anche perché c'è sul nostro proprio fronte del blog c'è questo Sherlock Holmes ambientato a Bergamo di Rino Casazza perché lui è uno di quelli autorizzati a riportare in vita Sherlock Holmes c'è un articolo dell'Eco perché è molto interessante questa ambientazione bergamasca di Sherlock Holmes e noi abbiamo anche il podcast sì qui sul fronte del blog proprio trovate il podcast quindi la lettura della prima parte di questo libro quindi andate ad ascoltarlo e il finale invece il finale poi è tutto da scoprire bisogna avere il libro di Rino Casazza altro libro invece presentato da fronte del blog che parla di Leonardo ed è un giovane scrittore Pierfrancesco Grasselli che ci presenta un Leonardo da Vinci che apre un'osteria vegetariana prima a Firenze poi a Milano è un'occasione questa di Grasselli un po' per parlare di chi è vegetariano insomma delle filosofie che stanno dietro ai modi di mangiare esatto perché dice lui che ha riunito qua in questo romanzo le sue passioni e quindi abbiamo offerto anche diciamo un pranzo vegetariano ai nostri ascoltatori ci troveremo per la cena invece di domenica sera domenica sera e ricordiamo che chi vuole ci può mandare le sue opinioni le sue notizie quello che non si scrive quello di cui possiamo parlare in questo podcast quello che è politicamente scorretto potete inviarlo su infochiocciolaradioraccontiamoci.net e lo troverete esatto qui su fronte del blog grazie a tutti grazie a tutti